Musica Quello che stiamo per fare è una catenella che è l'inizio del lavoro all'uncinetto si fa un occhiello e si tira così poi queste sono le varie maglie su cui lavorare ecco per fare una pressina a questo punto si chiude questo cerchietto si fa una catenella se si vuole fare la maglia bassa questa è la maglia bassa ce ne fa un'altra e si chiude il cerchio adesso possiamo fare un giro di maglia alta con due catenelle iniziali si getta il filo e si fa la maglia alta che è questa si continua allargando però in ogni maglia due in modo che il giro si allarghi mi ha insegnato a lavorare all'uncinetto una mia zia napoletana che era bravissima e io adesso che sono in pensione mi diverto a fare diverse cose mi ha insegnato a lavorare all'uncinetto una mi ha insegnato a lavorare all'uncinetto una di più Grazie a tutti.